Ben trovati a questa non-app, ovvero un video interamente dedicato a scenari didattici alternativi o innovativi, partendo da applicativi noti o almeno il cui uso inizia a essere consolidato almeno per chi conosce o se già avvicinato alle TIC. CAUT è forse uno degli applicativi più noti e più apprezzati sia dai docenti sia dagli studenti cui piace la componente decisamente ludica. Tuttavia, oltre a usarlo con lo scopo per il quale è stato creato, cioè somministrare quiz al singolo o a una squadra, è possibile immaginare altre modalità di lavoro. Ne presento quattro, particolarmente suggestive, nell'infografica che potete trovare nella pagina Facebook di AppPerPro. Per chi non conoscesse CAUT, invito a guardare un qualsiasi video tutorial, oppure se volete la mia app che troverete alla fine di questo video. Ma ecco gli scenari. Un primo scenario prevede l'utilizzo di CAUT per introdurre un nuovo argomento di studio, preparare delle domande guida in una lezione dialogica o maieutica e chiedere il parere coinvolgendo direttamente nelle scelte o nel ripasso i nostri studenti potrebbe davvero coinvolgere la classe. Immaginiamo di introdurre ad esempio lo studio della rivoluzione francese e chiedere agli alunni, dopo aver visionato delle fonti coeve, quali interpretazioni ne danno. Le risposte sia corrette che sbagliate, non è detto che debbano esserci delle risposte corrette, serviranno da stimolo all'approfondimento e animeranno la discussione in classe. Un secondo scenario riguarda la memorizzazione oppure lo studio guidato di nozioni più che di competenze. Un CAUT semplice sul modello della tipologia delle scelte multiple invalsi e ripetuto magari cambiando l'ordine delle domande utilizzando l'apposita funzione potrebbe rendere l'acquisizione più piacevole e stimolante. Immaginiamo ad esempio di studiare in questo modo i verbi regolari inglesi o le regole ortografiche della lingua italiana, ripetita a Juvent. Lo scenario più stimolante prevede infine la creazione di storie sul modello dei test attitudinali per delineare profili psicologici. Agli alunni, meglio ancora a un gruppo di alunni, si sottopone una storia a scelta multiple nel quale sono chiamati in causa direttamente nella scelta di alternative. Al docente importerà l'osservazione delle dinamiche relazionali del gruppo, le competenze di cittadinanza, lo spirito di collaborazione o la gestione del conflitto. La parte più importante sarà costituita infatti dall'analisi delle risposte dal confronto con quelle degli altri gruppi. Non è detto che alcune domande lasciate aperte possano poi essere da stimolo ulteriore a continuare narrazioni più o meno creative. Un bel esempio di queste attività potrebbero essere il librogioco, ovvero dei libri la cui costruzione è affidata alle scelte che vengono fatte da chi legge oppure da chi crea. Vediamo un esempio. Questo ad esempio è un cauta pubblico che si può utilizzare liberamente nel quale il docente ha sottoposto veramente una semplicissima possibilità di intervento sulle proposte che sono state fatte. Ad esempio in questo caso chiede agli alunni qual è l'alternativa migliore, se entrare o non entrare in classe, oppure fare o non fare i compiti. Naturalmente le risposte saranno sottoposte al giudizio della classe e creeranno una serie di riflessioni. Immaginate che anziché avere delle questioni di cittadinanza oppure di riflessione sul carattere ci sia proprio una storia da costruire nel quale abbiamo un personaggio a cui vengono sottoposte delle alternative. Infine l'ultimo scenario è il più banale ma spesso il più piacevole e appagante. Dopo aver rodato l'approccio cauta è ora di scatenare la creatività e l'apprendimento attivo degli alunni. Spetterà loro creare dei cauta con risposte corrette e motivate, magari aggiungendo alcune alternative sbagliate ma credibili. A questo punto una volta che il cauta è stato creato potrà essere sottoposto alla classe o a un'altra squadra. Ovviamente questi sono solo quattro scenari didattici, scrivetemi nei commenti se avete altre idee e sono sicuro che ne avrete. Nessun prof è un'isola e conviene condividere le proprie esperienze perché questo arricchisce tutti noi. Vi saluto, alla prossima app per prof. Buon lavoro!